visto che i cantos sono in qualche maniera l'opera somma di pound o almeno quella per cui è realmente famoso che noi sappiamo di dante l'architettura che cosa voleva raccontare nell'insieme di tutti i suoi 99 canti il progetto di pound quando ha iniziato a scrivere i cantos qual era che piloto avrebbe dovuto possedere questo grande viaggio è giusto e giusta la domanda attento lui è il ragazzo che a 13 anni si è messo in testa di fare il poeta quindi di usare uno strumento la penna mossa dalla testa per creare ma il bel verso sì cuore fa rima con amore nelle canzonette ma non è questo il senso della poesia ecco il limite tra la poesia e la canzonetta la canzonetta è un'espressione popolare che serve ad appagare facilmente la gente di scarsa cultura la poesia è tutt'altra cosa infatti pound poesie d'amore non ne ha quasi composte ma costruito con i cantos e altrettanto nel nella divina commedia dove c'è molto riferimento ad un amore ideale e spirituale in effetti il dolce stinnovo inventato anche da che era da dante il riferimento a un'osservazione della donna in maniera particolare non diventa il cardine della creazione dantesca lo è invece è lo stesso modo nei cantos di pound dove di tutto si tratta meno che della del cuore che fa rima con amore viceversa l'influsso di questa morale confuciana che comunque poi viene da noi trasformata nel mondo occidentale con cinque sei anni di ritardo perché confucio è un uomo che vive cinque secoli prima di cristo quindi cinque secoli prima dei problemi eretici di una religione che poi ha generato anche l'islam ebraismo ma quel tipo di morale in una civiltà che è vecchia di 2600 anni i cinesi del tempo che erano molto progrediti però eravamo progrediti anche noi nel mediterraneo quel concetto quando lo trasferisce ai tempi nostri dice no momento ci sono dei capisaldi che devono valere i tempi nostri hanno anche la moneta il rapporto tra gli uomini che è un bene un elemento strumentale che non può essere condizionato nei confronti di alcuno non mi si venga a dire eh ma c'è l'ubriacone c'è il drogato c'è questo c'è quell'altro piano questi sono prodotti di patologie noi parliamo dell'uomo che è uguale quando nasce nasce nudo vive una vita ha delle occasioni e poi resta in giro qui c'è un'espressione resta con vite differenti a seconda dei vari casi c'è chi nasce ricco c'è chi nasce povero c'è chi nasce con un suono nelle orecchie per cui diventa Beethoven o diventa Bach o diventa Vivaldi o Mozart e questo suono entra anche nelle orecchie di Pound che si impegna in campo musicale costruisce tre opere musicali e degli strumenti per violino eccetera diciamo minori perché se fa il poeta e l'uomo che si occupa di storia e di economia marginalmente rientra la musica e la musica rientra quando io ho accennato prima al fatto che Rapallo era diventato un centro notevole dal punto di vista musicale ma lì c'è un un intreccio indissolubile di situazioni perché attraverso la compagna che era una violinista che ha suonato con grandi della cultura musicale ha suonato con pizzetti con casella con molti per intenderci di rilevo degli anni 20-30 eccetera questa signora ebbe l'avventura di aiutare un gentiluomo di Siena che aveva ricevuto nato nobile il conte Guido Chigi Saracini ricevette una notevole eredità che seppe gestire creando l'Accademia Musicale Chigiana che è stato un centro ed è tuttora un centro questo signore ha creato una scuola gigantesca di personaggi che sono andati a studiare a perfezionarsi e hanno avuto per 32 anni la segretaria generale del conte che era Olga Raggio la compagna di Pound tra i tanti un'infinità io da Uto Ugi a Cardo a Giulini io l'ho interpellato molti anni fa prima che morisse a Zeffirelli pure andò a fare dei corsi di perfezionamento un'infinità di persone oggi chi viene a studiare in Italia dal Giappone dalla Cina eccetera passa sempre per Siena un annetto se lo fa ebbene quello è un altro dei fenomeni che ha creato questo intreccio questo vimini intrecciato di grandi elementi non solo suggestivi ma concreti perché la musica qui non lo dico io c'è un'espressione bellissima che sarebbe bene andare non me la sono preparata a leggere la carta del Carnaro che ha gli ultimi due titoli cioè gli ultimi due articoli che riguardano proprio la musica l'annunzio nella carta del Carnaro dedica due articoli è l'unica costituzione al mondo perché nessuna costituzione che considera la musica il valore di essa che crea lo spirito soddisfa lo spirito degli individui sono osservazioni che invece erano quasi naturali per un personaggio come Pound ovviamente un uomo di questo genere che incontra casualmente perché viene a vivere in Italia un personaggio come Mussolini che attua delle riforme in Italia e ne resta affascinato come sono rimasti affascinati moltissimi in America tant'è vero che fino al 1935 per Mussolini hanno stravisto e quando nel 28 fu pubblicato My Autobiography dal io ho l'edizione anche qua diciamo la sedicesima della prima edizione la sedicesima sfornata quando fu pubblicato quello che era il frutto dell'ambasciatore statunitense che precedette la marcia su Roma Richard Washburn Child il quale giornalista insediatosi Mussolini al potere tornò negli Stati Uniti con un contratto di collaborazioni giornalistiche per Mussolini strapagandolo in dollari ma un giorno perfezione il contratto e gli fa avere un milione di dollari per questa mia autobiografia che ha avuto centinaia di edizioni e quindi fece apparire dal 28 in poi negli Stati Uniti il fenomeno Mussolini questa autobiografia da chi fu realmente scritta no no ecco appunto beh se l'uomo aveva da fare come aveva da fare perché le sue giornate erano quelle specialmente all'inizio in quegli anni là nel 28 quando gli è stata commessa 26 27 diciamo dal 25 al 27 andò così e lui trovò comodo farsi aiutare dal fratello Arnaldo il quale si metteva a tavolino con la macchina per scrivere e scriveva i capitoli si incontravano credo una volta a settimana leggevano le cose e il benito le integrava e il fratello le sistemava in maniera tale che è stato scritto a quattro mani cioè a due mani materialmente ma a due bocche ecco peraltro Arnaldo lo ha spiegato che lo ha fatto molto volentieri perché poi serviva gli interessi comuni e c'è un riscontro in questo quando arrivò la milionata di dollari perché arrivò il benito fece una cosa molto accorta lo investì immediatamente nella edificazione del palazzo del popolo d'Italia e nella tipografia Same di Milano che intestò a se stesso al fratello Arnaldo e alla sorella Edvige di Milano